17 milioni di euro in arrivo ad Arezzo per la riqualificazione straordinaria urbana e delle periferie. Si tratta della seconda tranche di risorse che consentirà di finanziare altri 50 progetti che fanno parte dei 120 presentati dalle amministrazioni locali approvati ma che non sono rientrati tra i primi 24 come Arezzo. Adesso quindi grazie ad un ulteriore finanziamento potranno accedere alle risorse anche le città che non avevano raggiunto il punteggio necessario. La città potrà finalmente utilizzare risorse per riscoprire, ritrovare luoghi che ci sono cari e riqualificare una parte del centro urbano ma questa conferenza è anche per dare una disponibilità a collaborare a tutte le forze istituzionali e alle amministrazioni di questo territorio, della città di Arezzo ma anche della provincia affinché sempre maggiori vantaggi possano essere portati a questo territorio. I 17 milioni sono fondamentali per una bombola d'ossigeno grandissima per la città in termini di lavoro, in termini di manutenzione e ricucitura delle periferie. Adesso però si libereranno risorse. Noi non vogliamo più assistere a un caso matrignano, a un palazzine salorentino che è chiuso. Noi vorremmo adesso collaborare per scrivere insieme un grande piano di riqualificazione degli impianti pubblici della città e per la messa in sicurezza di questi impianti quindi dagli impianti sportivi e soprattutto le scuole che hanno una grande necessità. È il momento perché il governo ci ha dato la possibilità di attingere a un fondo importantissimo quindi con le risorse che si libereranno noi siamo pronti a collaborare per un grande piano di riqualificazione della città.